Ministro Lupi, come si può cambiare? Magari a partire da cose piccole, secondo lei? Posso fare un esempio su come si può cambiare? Guardi, lei fa il tassista e io faccio il Ministro dei Trasporti. Io ho due idee molto chiare e ho cercato di attuarle in maniera chiara quando ho preso la responsabilità del Ministro. Il primo, io sono stufo da cittadino e non so se lei è la stessa cosa, di vedere i comuni italiani che usano il codice della strada per fare e aumentare le entrate con le multe come una tassazione aggiuntiva e io ne sono stufo, le multe sono uno strumento per educare il cittadino a rispettare la legge, non la rispetti, non rispetti il codice della strada, paghi la multa, ma l'ideale sarebbe che nessuno pagasse la multa, noi dovremmo avere a zero e invece mi sembra che i comuni abbiano usato il codice della strada per aumentare le loro entrate. Non è possibile, non si può più fare e quindi abbiamo fatto, io ho fatto come Ministro dei Trasporti una cosa semplicissima, hai preso una multa, ti sei accorto che hai sbagliato, sei un autista che non gli sono stati tolti mai in nessun punto la patente, pagala in 5 giorni e pagala col 30% in meno, sarà un piccolo segnale, ma noi dobbiamo capovolgere la logica, la mia battaglia sulle strisce blu è stata questa, non puoi pensare che diventino il divieto di sosta, lo strumento per sempre penalizzare e tartassare il tuo cittadino, se tu hai pagato un Euro il tuo biglietto e la macchina invece l'hai tenuta anziché un'ora, due ore, pagherai il complemento di quelle due ore e al massimo, come si usa in tutto il mondo, una penale, ma che non può essere 20 volte la tariffa che dovevi pagare, non so se sei d'accordo, ma mi sembrano due segnali di buon senso, o l'Italia torna al buon senso e i cittadini fanno la loro parte, ma anche le istituzioni e i comuni fanno la loro parte, oppure non riusciamo più. Elezioni europee. Si vota solo nella giornata di domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 23. Nella circoscrizione nord-ovest, Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, barra il simbolo del nuovo centro-destra e scrivi lupi come preferenza.